In occasione della notte più lunga dell'anno, quella di San Silvestro, calici alla mano e brindisi in piazza a Giuliano. Nell'attesa del tradizionale veione, sia Agora che Oronero hanno organizzato i consueti aperitivi che richiameranno a sé tutta la cittadinanza. Dopo il successo e la partecipazione degli scorsi anni e dopo aver allietato i giuianesi nella sera della vigilia, anche l'ultimo aperitivo dell'anno sarà all'insegna dell'intrattenimento nelle strade del centro. Goodbye 2013 all'oro nero dalle ore 12 con DJ set di John e Mike. Calici alla mano anche alla Gorà dove ad accompagnare i brindisi ci sarà il music selector DJ Kenzo. Si prospettano aperitivi ben auguranti per un nuovo anno ricco e spensierato.